Prendiamo decisioni in JavaScript con l'istruzione IF. Ciao, io sono Michele e ti do benvenuto in questa nuova lezione del corso per programmatori web. Chiariamo subito i prerequisiti così ce li togliamo di mezzo. Per seguire questo video avrai bisogno di Visual Studio Code, ma se hai seguito le altre lezioni ce l'avrai già. In più abbiamo bisogno di Node.js. Node.js lo trovi nel loro sito ufficiale nodejs.org. Ci sono le versioni 16, in questo caso per Windows, ma sono tutte uguali, e la 18, 16.16 e la 18.7. A fine di dati ci sono praticamente identiche, però la LTS sta per Long Time Support, quindi questa verrà mantenuta e verranno fornite patch di sicurezza e correttive per anni, mentre la 18 è quella che ha lo sviluppo più rapido e aggiungono le nuove funzionalità. Però per quello che serve a noi è praticamente indifferente. Io nel mio ho la versione DigitoNode perché ce l'ho installato, ho la versione 16.13, sono addirittura un po' indietro, ma per scopi appunto di apprendimento va benissimo tutto. Node.js che cosa è? Che cosa stiamo scaricando? Non è nient'altro che un motore, un cosiddetto engine, che è in grado di prendere il linguaggio JavaScript che noi scriviamo e di appunto processarlo, elaborarlo e farlo quello che deve. Negli episodi precedenti abbiamo utilizzato la console del browser, gli strumenti di sviluppo del browser facendo F12, che effettivamente hanno al loro interno un motore che è in grado di interpretare il JavaScript. Questa volta introduciamo uno strumentino in più, appunto questo node, così prendiamo anche confidenza con questo strumento usatissimo. Ok, scarica node, installalo, metti in pausa il video e ci ribecchiamo quando l'hai installato. Molto bene, allora in questa lessione vedremo le basi del JavaScript per prendere decisioni con il costrutto, l'istruzione if else, che è appunto la base per prendere decisioni. Per prendere decisioni dovremo fare confronti tra variabili, capire che cosa significa e che cosa sono i valori booleani, che sono l'unico modo per prendere decisioni all'interno di un codice. Quindi vedremo che cosa sono gli operatori booleani. Quindi vedremo i booleani, gli operatori di confronto, come si scrive if else, e quindi scopriamo come costruire delle espressioni, delle condizioni per prendere decisioni. Quando vogliamo definire diversi percorsi che il nostro codice può seguire, dobbiamo usare operatori e variabili booleane. Andando a recuperare un po', ok, qui ho aperto il mio Visual Studio Code in una cartella dedicata al video di oggi, JavaScript if, creati una cartella dedicata appunto a questo video, crea un nuovo file, attualmente lo chiamo demo.js, ok, i booleani, quindi sono quelle variabili che contengono i valori solo, possono contenere valore solo vero o falso, quindi per esempio il mio primo booleano false, ok, posso fare la stessa cosa, true, e qua lo metto, il mio secondo booleano. ecco, queste sono semplicemente delle inizializzazioni, perché abbiamo una dichiarazione, una dichiarazione, e subito assegniamo un valore, quindi è una inizializzazione, tutto in una riga di una variabile, qui abbiamo subito con il valore false, e qua con il valore true. Da dove arriva proprio questo nome booleano? Perché booleano? Perché è il nome del matematico inglese, ok, George Bull, che ha dato vita all'algebra booleana, tutta che studia i veri e i falsi, tutte cose. Scrivendolo in italiano, tutto il magico monto delle decisioni e delle if gira intorno a qualcosa del tipo, se condizione, e quindi un qualcosa che ci dice vero o falso, sta accadendo questo, sta accadendo quest'altro, vero o falso, ok, allora se è vero succede qualcosa, e prendiamo un percorso nel codice, se è falso prenderemo un'altra direzione e faremo qualcos'altro. Alla base delle condizioni, che quindi sono delle cose che ci restituiscono vero o falso, abbiamo gli operatori di confronto, e quindi ci permette di cosa? Con questi operatori facciamo, valutiamo una condizione, facciamo un confronto tra una variabile e un'altra. Gli operatori di confronto, li metto qui, sono il minore, appunto, confronta due valori, e ci dice se quello di sinistra è il minore, quello che abbiamo a destra, il maggiore, abbiamo il minore uguale, abbiamo il maggiore uguale, abbiamo l'uguaglianza, la metto così, questa è una uguaglianza strict, come viene definita in JavaScript, poi entreremo nei dettagli, questa è la disuguaglianza, quindi questo ci restituisce vero se i due valori sono uguali, questo è falso se i due valori sono uguali, e vediamo come si usano. Ok, the value of the tool, let primo numero uguale 8, let secondo numero uguale 12, posso fare primo numero minore di secondo numero, e mi viene dato un trucco, ma posso anche confrontare due valori secchi, diciamo, 8 minore di 12, stessa cosa, posso anche prendere l'esito di un'operazione di confronto e assegnarle una variabile, quindi let esito confronto e dico 8 è minore di 12, in esito confronto o true. Ok, quindi abbiamo visto che cosa, un confronto tra variabili, sto usando il minore che mi dà un confronto diretto che mi restituisce subito true, posso anche fare un confronto diretto tra valori e posso anche prendere l'esito del confronto e piazzarlo, assegnarlo in una variabile per essere riutilizzato poi. Arriviamo dunque al nocciolo della questione, lo statement, quindi if, arriviamo dunque al nocciolo della arriviamo dunque al nocciolo della questione, lo statement if else. Ok? Finora abbiamo usato gli operatori logici insieme a delle assegnazioni e abbiamo visto immediatamente il risultato, l'abbiamo assegnato una variabile. Uno degli usi ovviamente più frequenti è quello all'interno di una condizione dentro l'operatore if. L'operatore if esegue un pezzo di codice oppure un altro a seconda di cosa accade all'interno della condizione. Quindi, banalmente, scriviamo if condizione apro chiudo graffa questa è proprio la sintassi vado a pulire ok else apro chiudo graffa quindi se la condizione si verifica diciamo così se la condizione è vera entro qui se è vero eseguo questo se è falso eseguo questo o meglio quindi altrimenti eseguo qui attenzione l'operatore if non ci tengo a specificare che se è vero esegui qui e poi salta l'else ok non viene eseguito entrambe non vengono eseguite entrambi i rami di codice sia dentro l'if che dentro l'else ma proprio c'è un salto quindi se è vero eseguo quello che c'è qui dentro e poi quando ho finito salto fuori e ritorno qui e invece se la condizione non si verifica vado nell'altrimenti nell'else salto completamente questo blocco e poi quando ho finito ritorno il flusso dell'esecuzione va sotto facciamo una condizione facilissima mettiamo il valore costante true quindi if true cioè se è vero ok allora facciamo un console punto log parte del vero mentre di qua scriviamo parte del falso l'ambiente di sviluppo è furbo ok e quindi capisce che questa è una condizione sostanzialmente sempre vera ci va a disabilitare questa parte del codice mettendola in grigetto poi ci dice guarda che non verrebbe mai eseguita perché questo è sempre vero è una costante non andrei mai nell'else però vabbè noi stiamo imparando stiamo facendo questi esperimenti per fare partire per fare partire questa riga di codice abbiamo installato un node io posso fare node salvo innanzitutto ok node demo punto jis il nome del file dove sono dentro e vediamo che l'output che otteniamo è parte del vero ovviamente siamo entrati qui siccome non ci crediamo finché non sbattiamo il naso mettiamo false a questa parte dovremmo avere il giro opposto salviamo il file freccia in su recupero l'ultimo comando eseguito invio parte del falso andiamo a fare un esempio più completo quindi per esempio ho let budget per pc nuovo uguale che ne so 2000 euro let costo di quello che ho nel carrello uguale 1800 a questo punto mi chiedo if se il budget del pc nuovo è maggiore del costo di quello che ho nel carrello compro il pc lavora e aumenta il budget a disposizione ok nel caso dell'es quindi salvo il file contro l'es lo rieseguo quindi compro in questo caso tengo compro il pc perché ho un budget di 2000 e è sicuramente maggiore di 1800 che è quello che ho nel carrello una cosa così semplice per fare cose potentissime quindi prendere parti di codice eseguire parti di codice una o l'altra a seconda di ciò che sta accadendo nel nostro programma può essere un input utente può essere qualunque cosa facciamo un passettino avanti e andiamo ad inserire gli operatori logici di confronto gli operatori logici facciamo un passettino avanti e andiamo a introdurre gli operatori logici e booleani che ci permettono di fare delle espressioni del tipo questo è vero e anche quest'altro oppure questo oppure di negare di fare delle negazioni infatti gli operatori principali che abbiamo a disposizione sono la e è la e logica quindi vuol dire che quello che abbiamo a sinistra e a destra di questo operatore deve essere vero da entrambe le parti perché restituisca vero quindi per esempio se io ho budget e ho posto in camera allora mi compro il pc queste cose devono essere vere insieme ho un budget e ho il posto in camera un'altra cosa invece che possiamo utilizzare sono l'operatore or quindi questo è l'end lo scriviamo qui l'operatore or attenzione è l'or logico non è la o come lo intendiamo in italiano che in italiano è una o esclusiva prendo questo o quello questo o quest'altro quindi che elimina un'opzione in sfavore dell'altra l'operatore booleano or è una o che quindi cosa significa che almeno se almeno una delle due condizioni che mettiamo a sinistra o a destra almeno una è vera allora tutta l'espressione è vera mi spiego facciamo quello di prima se ho il budget oppure me lo regalano posso avere il pc nuovo allora ho il pc nuovo non mi nuovo non mi importa che io abbia il budget che sia perché io ho il budget mio o perché me lo regalano ok? basta che almeno una delle due si verifichi quindi o ho il budget oppure me lo regalano o anche tutti e due non importa allora ho il pc nuovo ma se entrambe sono false quindi non ho né il budget né me lo regalano allora tutto ciò è falso e non ho il pc nuovo un altro l'ultimo operatore è l'operatore di negazione quindi mi serve per fare quelle espressioni che sono se questo non è vero se questo non si verifica per esempio se non scriviamolo così se non ho il budget allora devo lavorare per prendere il pc o qualcosa del genere devo guadagnare di più va bene? quindi se non ho il budget allora devo guadagnare di più per prendere il pc quindi mi nega quello che io ho metto tra parentesi quindi se avere il budget era falso questa qui mi diventa vera quindi facciamo facciamo giusto due esempi per capire bene vediamo let scriviamo qua qua sotto faccio un clear per pulire let vacanza uguale true let facciamo facciamo così facciamo un esempio di un'applicazione che applica gli sconti ai membri che hanno la card del nostro negozio durante i giorni di vacanza che ne so let quindi is vacanza è una variabile che ci dice se è vero che siamo in un giorno di vacanza o meno facciamo true let is membro è una variabile che ci dice vero o falso se la persona con cui stiamo utilizzando l'applicazione è un membro del nostro programma fedeltà punti facciamo vero quindi determiniamo se ha lo sconto in una variabile con has sconto ok che è una condizione di veri sono vere entrambe le cose abbiamo detto in italiano ha lo sconto se e solo se è giorno festivo ed è un membro tesserato quindi is vacanza e operatore logico e le voglio entrambe vere quindi devono essere tutte e due vere affinché lo sconto sia vero is membro del nostro programma sconti ok se invece volessi fare avessi una promozione di tipo diversa quindi questo è l'esempio per la end l'esempio che abbiamo usato adesso potrei fare un esempio per la or e dire a la tessera applico lo sconto se è membro del programma o o logico o se è un giorno festivo allora questo mi diventa così quindi se è un giorno festivo oppure se è un membro del programma applico lo sconto sono due cose leggermente molto diverse perché in questo caso se sei membro tutti i giorni hai lo sconto se non sei membro hai lo sconto solo se vieni in un giorno festivo qui invece lo sconto è solo per chi ha la tessera e anche viene durante i giorni festivi quindi sono due cose abbastanza diverse solo con un operatore di differenza lo vediamo incastrato in un if ok quindi if as sconto console.log scriviamo sconto applicato else console.log niente sconto non sono dimenticato la graph che faccio sempre in tempo a recuperare e la metto così ok potrei anche prendere questo e metterlo qui e risparmiare una variabile in questa maniera ok una cosa carina è mettere un commento qua se è giorno feriale o è un membro del programma fedeltà bene salvo faccio node demo.js ho uno sconto applicato perché vabbè sono entrambe vere quindi vero è vero mi dà vero con l'operatore or basta ne posso mettere anche una falsa perché comunque sono un membro allora dovrebbe venire fuori vero sconto applicato ok e viceversa se invertiamo quindi scrivo true qui e scrivo false qui stessa cosa ok se invece io metto la end ci viene fuori che lasciando così quindi è giorno di vacanza ma non sei un membro tesserato ok niente sconto per avere lo sconto devono essere entrambe vere eccolo qua sconto applicato comprendo che all'inizio queste cose non siano proprio facilissime ok quindi prenditi il tempo per rileggere il codice molte volte ma soprattutto un consiglio che ti do è prima di eseguire il programma prima di farlo partire con node demo js modificalo un po' e prima di farlo partire cerca di anticipare cosa è successo perché questo potenzierà un'abilità importantissima che è quella di leggere il codice e già solo leggendolo capire quello che fa ok è molto importante perché spesso siamo abituati a interpretare il codice quindi noi crediamo che faccia un qualcosa ma il computer è un esecutore è molto stupido lui prende lettera per lettera quello che noi gli diciamo e lui lo esegue dobbiamo diventare stupidi anche noi quindi interpretare riga per riga senza metterci pensieri aggiuntivi ma passare una riga per riga e questa fa questo questa fa questo e quindi aumenteremo la confidenza c'è la nostra conoscenza di sapere che cosa fa ogni singola istruzione ogni singolo operatore cerchiamo di applicarlo in maniera precisa e puntuale come fa un computer nella sua stupidità quindi è normalissimo soprattutto all'inizio questi concetti rileggere il codice più volte e ripassarci sopra e all'inizio magari troverai dei risultati inaspettati usare gli if e gli else usare gli if e gli else non è l'unico modo per prendere decisioni c'è un altro modo che si chiama usare gli if e gli else non è l'unico modo per prendere decisioni logiche possiamo utilizzare anche un qualcosa che si chiama operatore ternario e si scrive così per esempio let variabile uguale condizione qui se vero restituisci questo questo se vero questo se falso lo scriviamo così così non faccio un sacco di errori e di rosso da tutte le parti quindi per esempio se vogliamo confrontare due numeri let primo numero let secondo numero mettiamo a caso voglio assegnare il maggiore dei due alla variabile chiamata maggiore ok allora faccio se primo numero è maggiore del secondo numero assegno assegno il primo numero altrimenti il secondo numero ok quindi come si legge leggiamo bene questo codice cerchiamo di anticipare quello che succederà qui assegno il valore 123 a primo numero qui assegno il valore 4, 5, 8 eccetera alla variabile secondo numero alla variabile maggiore che cosa vado ad assegnare andiamo a calcolare quello che succede qui la prima cosa è guardare questa parte quindi valutiamo la condizione con questo operatore di confronto che è il maggiore primo numero è maggiore del secondo numero quindi 123 è maggiore di 4, 5, 8 9, 4, 8, 9 andiamo a farci questa domanda questa domanda è vero la risposta sì questa cosa è vera no è assolutamente falso 123 è più piccolino questa cosa è falsa quindi salto questa parte qui e vado sul secondo numero il che significa che in maggiore troverò quindi assegnato 4, 5, 8 eccetera eccetera andiamo a vedere se è vero ok quindi facciamo un console.log e ci spariamo maggiore salviamo andiamo qui sotto facciamo no per freccia in su dovrei trovarla demo.js ops abbiamo beccato un errore perché questa è scritta sbagliata quindi era la variabile qui che non esiste salvo faccio clear per pulire un paio di colpi di freccia in su faccio invio e ci siamo abbiamo 4, 5, 8 9, 4, 8, 9 quindi ovviamente andando a cambiare i numeri per esempio se il primo numero è 999 il secondo numero è 0 andiamo a rifare il giretto quindi qui abbiamo 999 è maggiore di 0 assolutamente vero quindi ci prendiamo questa la prima parte ok altrimenti il secondo numero che lo saltiamo qui c'era un errore qui c'era un punto di domanda da mettere ok allora salviamo andiamo in su e abbiamo ovviamente il nostro 999 l'operatore ternario può essere un attimino complicato da leggere le prime volte andiamo con calma facciamo delle prove pratiche così come abbiamo fatto cercando di anticipare nella nostra testa anche con l'aiuto appunto di un pezzo di carta io ho disegnato sullo schermo ma spesso ci si aiuta su un pezzo di carta per scrivendo i numeri i valori proprio al posto delle variabili e valutando nella nostra testa se è vero o falso anticipando quello che succederà nel programma bene 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 siamo arrivati in fondo anche a questo video dove abbiamo visto molte cose molti concetti probabilmente ci dovrei tornare indietro riascoltare con calma riguardare con calma ma soprattutto fare molte prove anche con il metodo che abbiamo appena visto dove andiamo a sostituire i valori a scrivere i valori delle variabili vicino alle variabili e provare passo passo ad eseguire nella nostra testa il programma abbiamo visto che cos'è che cosa significa prendere condizioni e quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per prendere queste decisioni ok basate sulle condizioni quindi che pezzo di codice eseguo questo o quest'altro abbiamo le condizioni che quindi sono degli oggetti che ci delle espressioni che ci restituiscono un valore vero o falso abbiamo visto gli operatori di confronto maggiore e minore uguale ok abbiamo anche visto gli operatori booleani la end la or e la negazione che ci servono per costruire quelle che sono appunto le espressioni che rappresentano le condizioni infine abbiamo visto un modo leggermente diverso un po' più compatto per prendere una decisione ed è l'operatore ternario è utilizzato probabilmente meno di quello che è il normale if else ma può essere molto comodo per avere una rappresentazione una scrittura del codice compatta in casi magari molto semplici dove ovviamente non abbiamo un blocco di codice da eseguire if succede qualcosa o else succede qualcos'altro quindi in casi molto semplici può essere bello perché è compatto se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile fammi sapere nei commenti metti mi piace e segui il canale così sarai informato quando arriveranno nuovi video alla prossima a Grazie a tutti.